Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Call of Duty Mobile Ragazzi cosa ne pensate di questo titolo? Questa è la domanda del mio video di oggi su questo game, su questo Battle Royale Ragazzi seriamente cosa ne pensate di questo gioco? Perché quando ho fatto il video l'altro ieri ho visto che a molti di voi ha interessato E molti di voi hanno scaricato questo gioco sia su telefoni sia su tablet Ragazzi voglio sapere cosa ne pensate della grafica, della giocabilità Insomma datemi un vostro parere qua sotto con un bel commentino Oggi ragazzi voglio giocare un pochino in questo video di oggi In questi dieci minutini giochiamo al Battle Royale Sono sceso intanto, ma quanto sono sceso male raga? Ok, voglio giocare con voi in questa modalità Battle Royale Che io la preferisco rispetto a quella multiplayer E so che sta uscendo anche un'altra mod Non si sa ancora quando E vi do ragazzi la mia Questo gioco raga, in realtà sapete che è uscito da un bel po' Ma non in tutto il mondo E l'altro ieri finalmente hanno deciso di rilasciarlo in maniera globale Quindi in tutto il mondo scaricabile Ragazzi io penso che questo gioco sia davvero, davvero una figata Mi sta piacendo veramente un sacco Non a caso ho cominciato a streamarlo su Twitch E molti mi avete chiesto Dragon Porta Code Mobile Il Battle Royale mi piace un sacco Perché la grafica è davvero interessante È davvero bella Rispetto alla versione che ho giocato qualche mese fa con il VPN Mi sembra che la grafica sia ragazzi migliorata Mi piace il modo con cui Ecco qua c'è uno, attenzione First Blood, oh mio, è figo, ok Mi piace ragazzi la grafica Mi piace la giocabilità, la fluidità del gioco Mi piace raga un po' tutto di questo game Vi dico la verità, è una cavolo di figata L'unica pecca per il momento Ovviamente raga non ho giocato tantissimo Anche se sono livello 27 L'unica pecca è lo switch dell'arma Che a volte è abbastanza lentino Tipo io sto, sto premendo 1, 2, 1, 2 Veramente veloce e ci mette un pochino per passare da un'arma all'altra Questa è l'unica mia pecca per il momento La mappa ragazzi è bella grande Ci sta, mi piace anche il fatto che c'è l'elicottero Che si può guidare con anche altre persone Mi piace che ci sono anche i veicoli Sempre con la possibilità di portare dei passeggeri Con anche quel camioncino Con la mitraglietta in alto Quindi poter salire con un amico e sparare allo stesso tempo Guidare e farli sparare allo stesso tempo Ci sono un po' di cose, un po' di dinamiche di questo gioco Che mi piacciono veramente tanto Ma raga, la cosa migliore secondo me di questo gioco è la fluidità Non è ragazzi pesante giocare a COD Mobile Mi piace veramente un sacco Ma voglio sapere ragazzi, la vostra Ci facciamo questo Battle Royale Anche se sono sceso in questo punto apposta per trovare dei nemici Andiamo verso il centro della mappa Andiamo a raccogliere un po' di cose Qui ad esempio dovrebbe esserci qualcosa interessante Il Gasnova, il Lancerazzi lo lanciamo Lo lasciamo, non lo lanciamo E ci prendiamo anche le cure, quelle potenti Che sono tipo il Medikit, come su Fortnite Giocabilità ragazzi, più o meno come quella di Fortnite Mobile Intanto qui c'è uno Ok, siamo a due kill 85 persone rimaste Vediamo però se sentiamo qualche persona Mi piace che i passi si possono anche vedere nella minimappa Mi piace che abbiano implementato questa cosa Intanto il mirino Vediamo un po', sì il mirino sono a posto Quindi ok L'unica cosa che devo ancora capire è il terminale Mi piace anche il dot Tantissima roba anche il dot sulle armi Quindi la laserata insomma Ben visibile e non messa lì admin cam Ragazzi ci siamo Ecco questo è il camioncino Il camioncino di cui parlavo pochissimo fa Ci spostiamo Andiamo verso un po' di movimento Andiamo verso Crash Tra l'altro se avete già giocato a questo game Voglio sapere anche il vostro record di kill Per il momento Anche se attenzione perché all'inizio Un po' come su PUBG Mobile All'inizio troverete dei bot Soprattutto quando siete dal livello 1 A livello 5 Mi sembra che poi dal livello 10 in poi Credo ragazzi Poi se sto sbagliando correggetemi Non si trovano più i bot che ci sono all'inizio Avete visto che hanno inserito anche questa cosa qui Che mesi fa quando l'ho provato il game con il VPN In realtà non c'era Quindi come su Fortnite Uh bello Questo addirittura scende giù Ma che figata La possibilità di scivolare quando siete in modalità corsa Ci sono delle cose prese sia da Fortnite Sia da Apex Legends Ok tipo questa cosa qui Il rampino O meglio adesso mi viene in mente il nome Per poter passare da una zona all'altra Mi prendo il gas nova La granata Bellissima tra l'altro quella granatina lì Anzi la scegliamo già qua sotto Così siamo pronti Questo gioco ragazzi Può giocare anche attraverso un emulatore Per poter giocare Da PC con mouse e tastiera Solo che sinceramente Io Guardate qui c'è uno Vediamo se lì dentro No Eccolo Toc Olè Dicevo Questo gioco ragazzi Si può giocare anche con mouse e tastiera Cosa che io in realtà odio fare Secondo me questi giochi Ragazzi Se sono da mobile Devono rimanere su mobile Si può giocare con un emulatore Con mouse e tastiera Ok Anche se ovviamente la grafica poi mettendo il gioco da PC Non è come magari quella sui telefoni e tablet o iPad Tra l'altro so che su telefono raga si vede da dio Anche su telefono la giocabilità è davvero tanta roba L'ho provato sul mio OnePlus 6T E ragazzi Fantastico Si vede veramente bene E si gioca molto molto bene ed è molto fluido Mi prendo il veicolo e vado un po' verso il centro della safe Nel tentativo di trovare un po' più di persone L'unica pecca raga è che qui se siete da soli C'è un po' da girare tutta la mappa Anche se mancano tanti giocatori Rischiate di passare la maggior parte del tempo A non killare nessuno Ed è un po' bruttina come cosa Rispetto invece a Fortnite Nonostante la mappa sia grandicella abbastanza come quella di Fortnite Nonostante lì invece Ogni Bene o male Ogni 3-4 minuti Ti trovi preso il palo dei nemici Ci prendiamo il drop Me ne vado con il coltello in mano A meno posso correre più veloce Vediamo se trovo un cecchino Oppure il lanciarazzi Quello figo Attenzione Ecco lo sapevo io Oh my god No sta arma non mi piace Ho sentito spari da quella parte Quasi quasi Andiamo da questa parte Vediamo se c'è qualcuno qua sopra E infatti già lo sento Ecco ad esempio qua Ho perso un po' troppo tempo per Switchare tra la granata Olè Una kill così dentro la veleno Ci sta Ci sta Onesto Tac Granatina Abbiamo anche l'abilità speciale Del medico Quindi Si è spostato proprio Attenzione Uh sparano di qua C'è un drop da questa parte Tra l'altro Ci sarà qualcuno Attenzione Gli ultimi 5 Gli ultimi 5 vai Easy Ieri ho giocato in live ragazzi Abbiamo Abbiamo in squad Ci sono capitati un po' di player Forti eh Granata Granata buono Granata buono Fumogeno Flashbang Perfetto Quanta roba c'ho Oh my god Bello Bello questo Ragazzi L'ultima kill ce la facciamo di cecchino No Lì dietro tipo Aspetta No 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 7 8 9 Da No Si sta killando Vedate che c'è l'ultimo Tac Abilità Ok Olè Ho anche sbagliato arma prima Dai L'ultimo Con il cecchino Anche se Si sarà curato Prima ho sbagliato arma Dai Facciamoci quest'ultimo Il prossimo video ragazzi Proverò a fare C'è un video su cod mobile Ma Tentando di fare Tentando di fare tante kill Loll Niente È sceso giù Ma che Il bello è che mi aveva pure sparato What Ok Poche kill raga ma E sono anche sceso dal centro della mappa Raga Cosa ne pensate Commentino qua sotto Il prossimo video proverò a fare Una clip in cui faccio Più kill possibili E voglio fare un video di questo genere Grazie per la visione Ragazzi Ci vediamo Ci vediamo stasera Penso di live su twitch Sul tardi questa volta In cui giochiamo a cod Raga Spero abbiate passato Questi dieci minuti Così in compagnia Guardare questo gameplay Ci vediamo in un prossimo video ragazzi Ciao